e la raga è bentornata allora via via joker via ah quel cazzo di pinguino e eliminare il dipistrano l'exio lo so lo so sshh sarà fantastico lo sale meno che sei qui viene guarda che roba dolce dolce denaro è di tutta mia non temere figlio avrai la tua parte prometto il cavaliere di azione barbaraco chimi dove sono allora ha preso lei la ragazzina del commissario chi è aia la roba non qua sotto dai dai romperemo gli dettagli gestisce un'azienda farmaceutica o roba del genere madonna spacco tutto non provare a mentirmi tutto stronzo eh la verità giuro hanno detto che sta per andarsene dacota quei dei cicli su questo river sono suoi tiratelo giù firmo spacco non ti servirà a nulla lo spaventapasseri ti distruggerà verrai sconfitto vado tenetelo per ragazzi mi sono allenato alla battuta guardate imparare eh dai è così che gestisci la cosa tranquillo poi mi ringrazierai fatelo a pezzi metrò di non farti sfigurare è tutto tuo maffa culo Dai, 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 dai Dai, 16, dai 20, 21 Dai Dai, come minimo a 30, 30, eh A 40 mettete almeno 5, dai Che niente, ma non c'è arrivato Mortacci, su, ha messo a preso Manchi, dai Dobbiamo impedire che queste armi finiscano nelle strade Bisogna distruggere il deposito Bruce, devi lasciarti aiutare Avevo tutto sotto controllo Ti avevo detto di rimanere a Bloodhaven Con lo spaventapasseri e queste armi Anche Bloodhaven è a rischio Il posto giusto per me è qui Senti, tutte le armi che il pinguino ha fatto entrare a Gotham Non può essere tutto qui Deve avere altri depositi in città Setaccia questo posto in cerca di prove Ci aiuterebbero a localizzare altri camion refrigerati del pinguino Che mezza calzetta Facciamogli Studere i battenti Sono serio? Non ha una voce incredibile? Scommento che lo fa per sembrare spaventoso Se chiudo la porta del capo Conterrò l'esplosione Per favore Che stai facendo? Batman Andiamo Non tenermi chiuso qui Farò così e sicuro Vuoi che si faccia il boccato? Ok, aiutare altri? Va bene Devo allontanarmi prima di innescare l'esplosione Non andrò via senza distruggere le armi del pinguino Ah, apposto Io mi occupo di Barbara Ti contatto appena rintraccio uno dei camion del pinguino Grazie, Vic Ti sono grato Perché servono gli amici Alfred, scopri tutto quello che puoi su Simon's Tag Il magnate della farmaceutica? Certamente, Sir Bene Che cosa abbiamo qui? Una sana vecchia imboscata Aspetta lì, Batman Lascia che il vecchio zio Joker si occupi di questi idioti Posso... E' stato Aprite il fuoco Parate a tutta ora Aspetta lì, come esco? Come ne uscimo? Come ne uscimo? Ecco, con questo? Adesso come uscimo da questo caos? Non guardare me Sono un essere incorporeo Con questo? Prova della qua E sta zitto Se scendo Sarò ucciso all'istante Deve esserci un altro modo Ma ancora non lo vedo E no, è questo Se io gli avevo le armi Mi serve un punto con una linea di tiro pulita per sventare l'imboscata della milizia Ah, l'abbattobile Ah, l'abbattobile Così Dovremmo incassare la grana e filare da questa città Vedo Oh, tutto questo posto Come sempre Puzza da schifo Centrale, rispondete Qui falco o quattro? Abbiamo trovato uno dei bombieri scomparti E' prigioniero nell'area di Grand Avenue Fatto Molto con delle munizioni si servono E' nell'auto E' nell'auto Come mai? E' nell'auto A posto Alfred, che cosa hai su Simon Stegg? Vediamo. CEO della Stegg Enterprises. Una società specializzata in ricerca e sviluppo farmaceutico avanzato. Sondando i dirigibili di Stegg. Crane era diretto lì ed è l'unico collegamento che abbiamo con Barbara. L'analisi dei rischi indica che Founders Island è coperta da radar e lancia missile a lungo raggio della milizia. La Batmobile verrà rilevata e presa di mira non appena lei attraverserà il ponte. Non temere altrett, andrò a piedi e rimarrò sui tetti. Trovami i progetti di quei dirigibili. Sì, subito. Buona fortuna. E quindi niente raga. Finiamo qua anche quest'altra parte del gameplay. Mi raccomando, mettete mi piace e iscrivetevi. Ciao! Ciao!